Ciao a tutti i miei gradosini, come sempre io cerco di fornirvi il maggior possibile quantitativo di aiuto in tantissimi videogiochi e sto facendolo anche con Final Fantasy, quindi andatevi a vedere la playlist nella quale ci sono le guide referenti a Final Fantasy nello specifico adesso stiamo affrontando le ordaglie allora, qui adesso ho Odino allora a fine video vi metto cosa io sto usando, come mi sono equipaggiato quindi ci sta tutto, mettetemi un like, seguite il canale, datemi una mano, supportatemi perché sono anni che faccio questo questo canale è cresciuto pochissimo, quindi datemi una mano voi a farlo, cresce perché io faccio quello che posso considerando che lavoro tantissimo ragazzi e amici miei detto ciò, allora Odino è uno dei più stronzi degli avversari che potete trovare all'interno di questo genere di sfide cioè veramente è una bella merda questa sfida, infatti pure io ho avuto un po' di difficoltà allora comunque, prima cosa da fare, io fossi in voi, fare quello che sto facendo appunto in questo video il motivo per cui ve lo metto, affrontare prima Odino Odino sfrutta una sequenza di attacchi particolare allora, a parte il fatto che se cominciate a vedere che qualcosa delle vostre armi comincia a brillare di rosa non attaccatelo, perché un attacco che voi porterete verso di lui verrà automaticamente parato quello che sto facendo adesso è stremarlo per farlo dovete utilizzare quelli che sono le abilità dei personaggi non gli attacchi base, ma gli abilità queste gli aumentano la tensione al punto che appunto arriva a come lo stiamo vedendo in questo momento scusate se è balbetto, vado veloce perché cerco di arrivare al succo senza girarci intorno per fare il classico youtuber amici miei vado diretto lo abbiamo mandato in tensione adesso che è in estremo sfrutto di fa per aumentargli notevolmente la percentuale di estremo perché è resistentissimo questo gran figlio di puttana quindi rapidamente fate quello che faccio io io sto giocando a difficoltà avanzata quindi magari è più difficile voi magari state giocando a difficoltà normale oppure state usando anche voi avanzata cercate di fare tutto come vedete nel video che sto portandovi attaccate prima lui portatelo allo stremo adesso che sparisce comincerà un countdown dell'altro bastardone gigante lì dietro che se non state attenti ragazzi non gli buttate giù quelle due maledette zampacce che si trova a destra e a sinistra lui vi one shotta ma come tutti i summon che sono presenti in queste challenge allora che faccio adesso allora ok allora devo distruggere come prima cosa adesso le sue braccia tifa è quella con l'attacco più pesante lui è debole al fulmine quindi equipaggiate magia fulmine cominciate a distruggergli i bracci con questa con la combo delle magie cercare di usare irith che dovrebbe essere se la equipaggiate come ho fatto io quella con la magia più potente momento allora in tutto questo ripeto per favore like e seguite il video se vabbè seguite il video seguite il canale per favore in tutto ciò a breve riprenderò pure un calc live se tutto va bene io principalmente porto videogiochi vecchi infatti final fantasy seppur nuovo fa parte di una sequela di videogame che risale addirittura a 30 anni fa quindi principalmente predivico quelli e tutto ciò che va sul giappone ma soprattutto anche di occidentale vado su god of war se non si iscrive e quant'altro basta guardare il profilo troverete almeno guardate ragazzi non necessitare di sbagliare di dire almeno 500 video quindi c'è una storia in mente dentro questo canale se volete vedere qualcosa che vi faccia divertire c'è di tutto andate nelle playlist e capirete ok allora il bastardo non vuole crepare la titano ha un vantaggio ragazzi sciotta cioè lui mena proprio ecco ad esempio che si è spostato vedete adesso lui comincia il suo countdown di merda se non gli sfondo quell'ultimo braccio rimasto mi distruggerà addio che guardate quanto cazzo mi devo muovere allora aspetta eriz devo farle guadagnare allora su eriz ho messo la possibilità di far sì che lei resuscita in automatico la verso i suoi alleati però serve almeno una carica a tb quindi adesso gliel'ho fatta ricaricare vediamo un po' se ok mi ha arrestato ierit non mi ricordo che cavolo ho appena usato per arrestarmi i cloud ok è andato giù adesso nel momento stesso in cui distruggete le sue braccia dovete massacrarlo di botte per far sì che la sua tensione aumenti potete utilizzare sia gli attacchi elettrici che attacchi che creano molta tensione come ad esempio la tempesta di erit oppure l'attacco stremante di cloud e così via senza che parlo troppo guardiamo un po' il video ok tifa ah il maledetto si sta caricando il maledetto si sta caricando il maledetto si sta caricando ok allora uno potrebbe dire è finita no perché sono stato furbo mi sono messo gli orecchini del risveglio quindi dato che questo a un certo punto è one shot se mettete gli orecchini del risveglio bene o male avrete la possibilità di essere resuscitati direttamente dallo strumento dallo strumentopolo misterioso il fatto è che vedete i danni che vi infliggono questi gran bastardi ok allora mi è rimasta solo tifa lei l'ho fatto in modo che faccia un danno della madonna infatti tifa è un attacco massacrante e quello che vi consiglio è ragazzi se siete capaci pari parate i colpi io proprio me ce trovo male col pari riesco a schivare ok titano adesso mi leverà un bel po' di danno a questi due infami che come vedete una volta che avete preso dino l'avete cacciato via e quel bastardo vi fa la one shot ma non vi stende odino ritorna allora lì dovete massacrare odino cioè qui lo dobbiamo portare via per portare via intendo dire lo dobbiamo sconfiggere allora devo fargli aumentare la tensione ricordatevi con le abilità è inutile attaccarlo soltanto con attacchi base dovete usare le abilità quindi ricaricare le barre ATB e cazzi e mazzi per poter far sì che lui si ecco se ne è riandato riattacchiamo lui se san baradande prima tutto il video girerà su questo ragazzi quindi adesso io smetto col commento vi lascio guardare il video copiate le mie mosse copiatemi il settaggio e ringraziatemi con un like e con un follow non mi serve chissà che non so il tipo che chiede donazioni e quant'altro seguitemi nel caso in cui vorreste vedere qualche mia diretta perché io prima ne facevo molte ma a causa del lavoro ho dovuto smettere se siete interessati io riprenderei però ripeto Wii U su giochi più sul vecchio ovviamente se c'è una nuova strafiga la porto PS5 ormai ce l'ho ma l'ho aspettato apposta di rarmi a prenderla perché non sopportavo il fatto di prendere una console che non serviva tutt'oggi in realtà oggettivamente parlando non è proprio essenziale questi già stanno a pensare fa una 6 con tutto che la 5 non convince cioè è una bella console non è che ci sia sto stacco generazionale tra la 4 e la 5 tanto da giustificarne l'acquisto perciò io ho aspettato un po' a prenderla ma un gioco come questo mi usciva solo su PS5 quindi me la so fatta ora vedete sto sfruttando l'aumento di percentuale di questo infame per potergli fare il più male possibile e grazie a Dio c'ho Claude che gli manca tabula rasa vediamo se riesco a usarla per al colpo incrociato ma comunque fa molto più danno vediamo lei ricarica l'energia quella che posso aumentiamo la percentuale di danno ok perfetto tolto lui e abbiamo quasi fatto eh regà manca poco è rimasto solo lui perché adesso si potenzia perché essendo rimasto da solo si sente solo povera stellina cucciolo di papà ok ce l'ho quasi fatta invece vi ho già caricato l'altra un'altra sfida delle ordaglie comunque ho caricato quella sul mammuttone gigante e sulla fenice in cui vi faccio vedere pure come si fa a batterlo sfruttando un bug perché ironicamente quelli che voi potreste pensare i più forti i bahamut e altro non sono i più pericolosi sono odino e fenice i più bastardi poi dipende dalle capacità di ognuno ma se copiate i miei video alla fine vi riuscirà e riuscirete a vincere serenamente allora continuiamo col video boom 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 tag team match boom mamma mia che botte che sto a mollare quella dovrei usare il verdetto raggiante perché anche questo aumenta parecchio la tensione mannaggia me l'ha bloccato sto bastardo buono 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 non ce la farai bro non ce la farai sto per distruggerti Zeus boom so che è odino ma mi viene sempre da citare odora sto per ucciderti Zeus boom dai 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 manca poco manca poco manca poco manca poco mamma mia il primo colpo perfetto guys ok allora fate quello che ho fatto io adesso vi farò vedere l'equivaggiamento un abbraccione ok adesso vi mostro l'equivaggiamento andrò veloce quindi voi semplicemente stoppate il video copiatevi le cose che ho messo e fatevi il vostro equipaggiamento 2 1 1 2 2 2 2 Grazie a tutti.